Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti a questo video particolare, molto breve ma intenso che vi spiego l'applicazione della matita nera sotto alla palpebra inferiore, tante ragazze hanno problemi per l'applicazione perché dopo poco hanno sbavature, effetto occhi di panda e quindi non è tanto bello, poi se si è a lavoro durante la giornata e non si ha possibilità di ritoccarsi più di tanto ti vedono tutte le altre persone, se sei a contatto con il pubblico non è bello io con queste piccole regole riesco benissimo a mantenere il trucco intatto senza sbavature sotto gli occhi e quindi ci riuscirete anche voi sicuramente, vi lascio al tutorial, ciao! e prima di applicare la matita sotto la rima inferiore dell'occhio bisogna decidere se applicare, io ho applicato quella nera nella waterline, nella riga interna dell'occhio ma si può anche decidere di applicare la matita bianca per chi ha gli occhi piccoli si ingrandiscono molto con la matita all'esterno nera quindi valutate voi quale preferite di tipo di risultato il primo step che vado ad effettuare è di applicare un po' di primer potion qualsiasi primer per gli occhi anche sotto la riga, questa qui inferiore in questo modo con un pennellino per correttore e tiro dopo aver applicato il primer si può applicare per chi ha la pelle veramente grassa un pochettino di cipria trasparente con un pennellino, vedete, piatto e con le setole corte e questo è il 9S della Make Up For Ever un pochettino di cipria in questa posizione qua in modo da proprio tenere fissato e tenere anche asciutta questa zona in modo che non ci siano possibili sbavature se la pelle suda un pochettino fase successiva è l'applicazione della matita nera io utilizzo questa della Deborah 24 ore e mi trovo bene dall'interno verso l'esterno piano piano facendo dei piccoli, come posso dire, passetti e anche qua così, un po' di qua, un po' di là però proprio l'attaccatura delle ciglia inferiore la matita mettete sempre il tapino perché tendono a seccarsi e dopo si fa fatica ad applicarli bisogna sempre temperare e temperare anche se hanno la punta fase successiva applico sopra la matita nera l'ombretto nero io utilizzo un nero normale di una palettina con il pennello o diagonale in questo modo oppure uno con questo tipo di setole piatto con le setole corte e prendo il fix and plus perché lo applico bagnato lo stendo un pochettino sulla mano prendo il pennello diagonale lo bagno e vado a prendere l'ombretto nero e lo applico sopra la matita nera in modo proprio da fissare, in modo delicato vado a congiungere anche l'eyeliner che era nella parte superiore in modo che si sfumi per qualsiasi correzione si prende un cotton fioc in modo in questo modo e se c'è qualche correzione, qualche imperfezione si utilizza consiglio portatevi sempre presso qualche cotton fioc o quelli normali o quelli cosmetici con un pochettino di cipria in modo così lo applicate e lo mettete dentro un sacchettino in modo che se avete probabilmente la pelle così grassa in questa manovra, durante la giornata magari siete fuori tutto il giorno che siete in ufficio rimediate subito se c'è qualche problema di sbavatura quindi dopo aver applicato sia l'ombretto che la matita posso procedere con le varie fasi del trucco finale il mini video tutorial finisce qui spero che sia stato utile e spero che con queste piccole indicazioni riuscite a risolvere i vostri problemi di occhi a pamba bavature sotto gli occhi durante la giornata e io come vedete adesso a fine serata sono sempre così quindi spero che anche per voi sia la stessa cosa e comunque scrivetemi tutto sotto al video vi bacio tutti anzi vi baciamo ciao ciao alla prossima